Grazie a tutti. È importante come qualcosa da dire sull'emozione, sulla capacità di percepire, di mostrare, di governare, nel senso di gestire le emozioni, che ho citato per quanto riguarda il coping, uno dei coping è proprio sulla capacità di gestire le emozioni, ma il tempo è tirano, non ce la faremo a far tutto, ci vorrebbero altri tre giorni, non resisterei, morirei perché non ce la faccio a fare altri tre giorni. Sì, un'altra, volentieri, ormai ho imparato anche le strade. Facciamo sempre due. In ogni caso spero che queste quattro cose riesca a spiegare in maniera chiara. Ho fatto, come sempre succede nella vita, una scelta, delle cose che, visto l'uditorio, visto anche il feedback positivo che ho avuto da voi, ho ritenuto più importanti. Ovviamente nessuno ha la pretesa, tantomeno io, di essere esaustivo. Se però esce fuori una discussione o un approfondimento è già estremamente utile, poi uno lo può anche approfondire o per conto suo o in un'altra situazione. Per quanto riguarda il concetto di coping, ovvero utilizzare o imparare noi stessi e poi cercare di aiutare gli altri a utilizzare le proprie risorse, che come volete ben capire è fondamentale in tutti i tipi di intervento, da quello educativo a quello sanitario a quello sociale, che la grande capacità che dovrebbe avere l'umanità non è di far venire qua gli emigranti, è quello di fargli utilizzare le loro risorse là, però si utilizzano le risorse se ci sono, perché se no è un problema. Quindi è vero che non esiste un rapporto bionivoco tra le diverse strategie di coping e il risultato, che vuol dire che se utilizzo questo ottengo un risultato, se utilizzo quest'altro ottengo un risultato, se non utilizzo un no. L'abbiamo già detto che anche in questo caso è necessaria una plasticità a seconda del tipo di situazione. Quindi io posso affrontare il problema, posso per un po' insistere a affrontare il problema, ma come al solito, quando prima c'era l'assessore, se forse l'assessore c'è una tigre del Bengala, cosa caspita affronto da solo la tigre del Bengala? Forse è il caso di evitare la situazione. Forse ci può essere una deviazione. Mi cade un masso sulla strada, cosa faccio? Monto con la macchina sul masso, evito il problema, cerco una strada, oppure torno indietro. Gestire le emozioni. Le emozioni si possono gestire fino a un certo punto, come ho già detto prima, riassumendo, siccome vi è quello che in psicologhese si chiama il costo della risposta, ogni cosa che faccio, che metto in moto nel mio organismo, ha un costo. Se mi preoccupo solo di gestire le emozioni, spreco o utilizzo tutte le mie energie, non ce l'ho più poi per affrontare il problema. Un giochino complesso, non è un gioco di vasi comunicanti, più di questo o meno quell'altro. L'organismo umano è una cosa, un tantinello complessa, è la cosa più complessa che ad oggi conosciamo nell'universo. L'efficacia ai fini dell'adattamento alle diverse strategie di coping dipende quindi dalla natura dell'evento, dal momento nel tempo, dal contesto, dalle caratteristiche individuali. Non esistono modalità di gestione dello stress intrinsecamente funzionali o disfunzionali. Vi è quindi un rapporto complesso e circolare tra stress, strategie di coping ed esito. Ai fini dell'adattamento è importante disporre di un repertorio ampio e flessibile di strategie. Penso che la frase che ho letto sia abbastanza chiara. Quindi più cose impara l'arte a mettere da parte, più cose imparano di strategie che devono essere però, anche in questo caso, vicine alle mie caratteristiche. Alcune strategie di evitamento, come il disimpegno e la negazione, come vedete è scritto, il prendere le distanze e la fuga, possono essere utili in alcune circostanze, ma nelle fasi precoci dell'adattamento a eventi traumatici possono andare bene. Nel tempo, se utilizzate in maniera sistematica, sono quelle più disadattive e pericolose. Chiaro? Quindi, abbiamo fatto l'esempio del terremoto, rincrociamo le dita, lì per lì devo mantenere il sangue freddo. Ed è il caso che lo faccia per me e per gli altri. Devo sapere che vi è quello che gli psicologi chiamano il costo della risposta. Quindi questo ha un costo. Quindi, quando saremo arrivati giù in fondo, non ci saranno state altre scosse, non è successo niente, io mi devo aspettare che il mio organismo mi presenti il conto. Quindi non necessariamente svengo e gli altri poi devono soccorrere a me, ma devo sapere che per aver utilizzato questi meccanismi io mi sono spremuto. Ed ecco quindi la differenza fra le varie persone. C'è chi immediatamente viene preso dall'ansia, c'è chi ha scoppio ritardato, poi subisce il contraccolpo. Non è detto che chi subisce il contraccolpo a distanza stia meno male di chi si fa prendere la chesidansia. Il che vuol dire, fanciulline o fanciullini, non approfittate per esempio dei vostri amici o dei vostri partner. Non esiste l'uomo forte o donna forte, non deve chiedere mai, non c'è. Per cui non vi appoggiate supinamente su un altro, perché lui è forte. Non è così. Lui controlla le emozioni o lei meglio di voi. Ma anche lui ha un costo della risposta. Ci non distemmi? Beh. La personalità, ne ho ne abbiamo parlato, ne accenno brevemente, perché è una cosa molto complessa. Allora, il termine viene dal latino persona, che vuol dire maschera. Maschera latina, a differenza di quella greca, mostrava le emozioni, quindi sorrideva o era triste o anatona. È stata preferita dagli autori americani al termine europeo carattere, che invece viene dal greco carakteros, che vuol dire stampino per fare vasi. E' appunto perché il termine europeo era un pochino troppo fisso, non sembra che noi ci stampano alla nascita e così rimaniamo, cosa che non è. Comunque carattere, personalità e temperamento sono termini che vengono spesso usati in maniera quasi sovrapponibile. Di questi, sovrapponibile, quasi sinonimi. Dico quasi perché il termine temperamento ha più a che fare con le basi biologiche e genetiche delle fluttuazioni dell'umore. Quindi è un pochino più geneticamente influenzato, biologicamente pregnante rispetto agli altri due. In psicologia si intende per personalità e tratti di personalità, quindi delle caratteristiche stabili dell'individuo. Stabili relativamente, non è che sono inchiodati al muro e li rimangono. Se no saremo senza lavoro chi fa questo lavoro, per esempio, dello psicoterapeuta. E' vero però che lo psicoterapeuta può intervenire per modificare i tratti, modificare, non così, modifica non vuol dire sconvolgimento o rivoluzione. Ok? Quindi si intende personalità, un insieme di caratteristiche congenite e acquisite, spesso precocemente, che sono relativamente stabili nel tempo e che quindi sono molto difficili da cambiare. Quindi se una persona tende a essere un po' introversa, a non chiedere aiuto, a avere un po' di vergogna nel mostrarsi, per espandere un attimino questa sua tendenza, avrà necessità di un aiuto, di tempo e di energia, perché non le verrà spontanee, pur avendo dei modelli intorno. E non è assolutamente detto che i modelli, invece, estroversi che intorno funzionino meglio, possono funzionare meglio per Giovanni, ma non per gli altri. Si ritorna alla polemica, così, lieve, che ho fatto i primi giorni, appunto, sui termini, sulle parole, no? Vi ricordate Borderline, eccetera? Siamo partiti da prostitute, siamo arrivati a escort, che non sono altro che un'ipocrisia sociale. Quindi oggi per essere voi femmine, per essere di successo, dovete essere tutte escort. Ma anche no, secondo me, no? Dovete essere tutti brillanti, con la coscia lunga di fuori, con la farfalla tatuata sul pube, ma anche no. O da altre parti. Fate voi, però non è così importante. Perdonami... È bello di discutire, non intanto, perché... La società è fatta dagli uomini, quindi il mondo va storto, perché ovviamente gli uomini non sono dritti. Non è che diamo tanto... Vabbè, facciamo stare. Torniamo a personalità. Tenere conto di queste caratteristiche è di fondamentale importanza. Vedete, la scelta della strategia, situazione specifica, tra quelle disponibili nel repertorio del soggetto, è anche funzione... Scusate, della valutazione dell'evento. Mentre le strategie di coping disponibili, la predisposizione e la probabilità di selezionarne e di impiegarne talune, piuttosto che altre, dipendono, oltre che dalla storia, da tutti gli apprendimenti del soggetto, anche da determinati tratti o configurazioni di personalità. Studi sui gemelli hanno evidenziato relazioni significative tra le strategie di coping e i tratti di personalità, come nevroticismo ed estroversione, con un 20% della varianza del coping spiegato dalla personalità. Senza entrare troppo nel linguaggio specifico, si ha una percentuale elevata, significativa comunque, di scelta della strategia A piuttosto che la B, influenzato da quella che è la configurazione di personalità. Io, se volete, non ci insisterei molto perché mi sembra pleonastico, mi sembra abbastanza ovvio. L'unica cosa in più è che è stato scientificamente valutato, anche se questo lavoro è vecchio e del 99, ma insomma non è dell'antichità. È chiaro che una configurazione di tratti stabili influenza la capacità, modalità di scelta dell'individuo. Da qui però nasce l'esigenza, e di nuovo mi rivolto ai nostri educatori, di una valutazione d'ingresso, non solo patologica, ma psicologica. Se io conosco i tratti di personalità temperamentale del soggetto, sono entro una certa percentuale in grado di prevedere quali possono essere le loro future scelte, cioè che strategie mi metteranno in atto per affrontare situazioni critiche. E voi sapete che in comunità di situazioni critiche ne possono sorgere una mattina, una pomeriggio, una sera o forse di più. Comunque, una cosa su due spiegazioni veloci, nevroticismo, eccetera. Questi sono termini utilizzati da Eisenk nei suoi studi sulle persone, con delle analisi statistiche molto accurate sulla popolazione generale, ha tirato fuori una teoria sui tipi, quindi se vi sono i tratti, i tipi sono un qualcosa di molto più largo, quindi vi sono dei tipi di persone. Lui ha identificato all'interno di una proiezione ortogonale dei tratti come estroversione e introversione, nevroticismo o psicoticismo. Tutte le persone possono essere descritte all'interno di questi quadranti. Brevissimamente, il nevroticismo viene da nevrosi, ovvero disturbo del comportamento. La persona nevrotica è molto cosciente del proprio disturbo, fino al limite da esserne presa. Per cui ne parla in continuazione, io sono così e io sono cos'ha, e io ho le attacche di panico e come meno sta male nessuno. Preferirei avere cinque cancri piuttosto che questo, e le darei a queste persone qua, le darei tutti i tumori che hanno i bambini in oncologia pediatrica, così imparano. E si arriva a questo. Questa è l'unione di questi due aspetti. Nevroticismo ed estroversione producono un rompiscatole in mane. Si contrappone al nevroticismo lo psicoticismo. Nel gergo psichiatrico la psicosi è la malattia mentale. Quindi quello che con la mano dentro la zumba dice io sono Napoleone e Nene non capisce niente, caro dottore, che sono la reincarnazione Napoleone. Psicosi è contraddistinta dalla non coscienza di malattia. Quello che ci ha opposto, perché il nevrotico è molto presente e rompe le scatole. Lo psicotico dice io sto bene, sei tu che non capisci. Ok? Sto benissimo. Il casco dipendente dice ma io ce la faccio, posso smettere quando mi pare. Tranquillo. Non è psicotico, ma insomma, si chiama in gergo psicopatologico, c'è l'ego sintonico. Quindi per me va bene così. Quindi dice la... Come vedete, vedi c'è Gesù che mi indica e mi dice col dito tu sei il mio figlio prediletto, eccetera eccetera. Lo vedi, no? Allora sei psicotica come me. Ego sintonico vuol dire che sono in sintonia, per me va bene. Ok? Ora io mi scavalco di lì e volerò sicuramente fino alla collina. E in situazioni psicotiche questo può venire sul serio. Non è così facile, perché vi sono meccanismi di difesa che intervengono nell'organismo. Quindi lo psicotico è difficile che ci ammazzi. Il più facile è il neurotico. È il depresso, l'ossessivo che si defenestra fisicamente col cuscino. Se io ipnotizzo lui e gli dico sali sulla seggiola, lui sale sulla seggiola. Se gli dico spogliati completamente, se lui è una persona di suo morigerata o comunque normale, lui comincia a spogliati e poi si ferma. Perché vi sono delle difese, in questo caso culturali. Se gli dico buttati dalla finestra, lui sotto ipnosi, apri la finestra, arriva lì e si sveglia. Ok? Questo col meccanismo di suggestione ipnotica. Lo stesso accade nelle gravi psicosi. È rarissimo che uno insegua la farfalla e si butti di sotto. arriva lì e in qualche modo si ferma. È molto difficile che un grave psicotico, uno schizofrenico uccida. Molto difficile. Se lo fa, lo fa all'interno del suo delirio. sono i disturbi di personalità. Allora, attenzione. Oddio, ci porta via... Next time. Ne riparliamo. Brevissimamente. Vi sono delle tipologie di personalità, possiamo spiegarlo con questo, che sono pericolosissime. Allora, psicoticismo non vuol dire psicosi, vuol dire chiusura, non rendersi conto delle situazioni o essere un po' originale. Non vuol dire essere psicotico. Così come nevroticismo non vuol dire nevrotico. È una caratteristica mostrare o meno sensimenti, emozioni e sofferenze. Se noi abbiamo una caratteristica di psicoticismo, quindi originalità, insieme a chiusura e introversione, ecco che la originalità diventa bizzarria. Se questa è una caratteristica di personalità, se facciamo altri esami e vediamo che c'è una freddezza emozionale, ecco che questi sono i serial killers. Questi sono veramente pericolosi. Perché non risuonando, l'abbiamo detto il primo giorno, del risuonare un po' come le corde dell'arpa, se una persona non risuona, semplicemente prende una pistola, dice ma era anche incinta e aspettava un bambino. Sì, beh, allora... Ma questo non è lo schizofrenico. Lo schizofrenico può arrivare a uccidere perché io sono convinto che tagliandola in due come si taglia un pollo, io le salvo, la porto alla nuova vita insieme a me e all'interno di questo... Ma è molto raro rispetto alle persone che sono realmente ciniche, eccetera. Quindi questa è una configurazione, si chiamano le psicopatie, la personalità psicopatica, il sociopatico, o comunque che hanno una configurazione di questo tipo. Quindi non hanno questa capacità. E la cosa paradossale, mi portate fuori strada, però sono cose interessanti anche queste, secondo me. La cosa paradossale è che tutta la società occidentale si muove gratificando e incentivando questa tipologia. L'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo con gli occhi di ghiaccio, è questo tipo qua. Se io e lui abbiamo un... siamo nel far west e ci abbiamo mezzogiorno di fuoco e ci abbiamo una sfida, no? Quindi ci abbiamo il duello. Se io leggo nei suoi occhi il ghiaccio, cosa vuol dire? Non mi ricordo come ti chiami. Umberto. No! Vuol dire che a Umberto di morire non nelle streghe ha proprio niente, non ne importa niente. Io sono fregato io, perché se a me ne importa il 5 per mille della mia vita, lui aspetterà l'ultimo, perché a lui non gliene importa. E quindi sarà di ghiaccio, sul serio, e a parità di abilità, io ho perso. Pensate, questo è il modello socialmente in qualche modo portato avanti. Il grande manager, il capo di industria, che non importa niente dei lavoratori, che vadano tutti a spasso, perché noi bisogna essere cinici, bisogna fare soldi, bisogna far lì, bisogna far là e tu sei il vincente, sei quello con la macchina bella, con il telefonino, con la cosa, con l'aereo personale, guarda, con l'arbergo 5 stelle di più, la sesta stella in omaggio, con anche la corona dall'oro, e c'hai le donne, e c'hai quello, e c'hai quell'altro, perché sei un grande. Ed ecco che quindi, il grande manager, e il grande farabutto, a un certo punto, si sovrappongono addirittura. Ed ecco quello che succede, l'altra sera, alle Iene, hanno messo una bicicletta nuova, a Napoli, a Barcellona, e in una città della Romania, e la prima bicicletta che è stata fregata, è quella di Napoli. Ed era tutto contento, perché era ripreso, ah che bello, viva, viva, cioè era contentissimo, perché l'ha rubata? Perché era bella. Quindi era tutto contento, non si rendeva conto, era proprio fuori, di essere trattato dal ladro, perché è bello rubare, perché se rubie non ti prendono, vuol dire che sono furbo, sono un grande, e noi ci scherziamo, ma è realmente così. Ed è quello che succede, in questo stupido paese, stupido perché ha l'oro sotto i piedi, e gli dà i calci, per cui tutti gli amministratori, sono tutti in pseudo galera, perché dicono, io lo rubo, e non me ne accorgo, sono un ganso, sono forte, è bello. Chiamiamo il vescovo, ce lo facciamo spiegare da lui, perché la coscienza, purtroppo l'anima, è insula dalle mie poche e povere competenze. Il problema morale è gravissimo, ma parte da questo, da dei modelli che vengono perpetuati, portati avanti, e che purtroppo influenzano noi, i nostri figli, tutti quanti. A un certo punto, uno che comunque paga le tasse, si sente idiota. Perché io faccio ambulatorio e faccio tutte le ricevute, perché? il punto è che tutto questo non è tenuto abbastanza presente, e si ritorna a quello che dicevamo questa mattina dei bambini, fate quello che dico e non quello che faccio. Un accidente. Non funziona così. Tornando al coping e concludendo, l'aspetto del nevroticismo, che è importante valutare, non necessariamente col test di Heisenck o con i test, però tenere presente che alti valori di nevroticismo tendono ad impiegare strategie di coping non adeguate, che perpetuano ed incrementano livelli di stress, mostrano bassi livelli di problem solving, alti livelli di evitamento. In generale, la loro instabilità emozionale, con prevalenza di emozioni negative, interferisce con l'abilità di selezionare appropriate strategie, e queste difficoltà sono maggiori in presenza di eventi stressanti di natura interpersonale che coinvolgono altri significativi oppure relazioni intime. Di nuovo, questo è un pochino più nuovo come ricerca. Cosa vuol dire? Eh, signore, di nuovo, che dobbiamo metterci lì a studiare. Qualcuno diceva, nei gruppi di lavoro che abbiamo, c'è quello che avviene all'ultimo momento, che non fa niente e parla sempre. Eh sì, può darsi che abbia altri indici di nevroticismo. è il discorso della mela marcia, è brutto dirlo, ma il nostro organismo ha un sistema immunitario fatto da macrofaci, da cellule killer, le T-cells, eccetera, e o viene inglobato o viene buttato fuori, in qualche modo viene isolato. L'identificazione con strumenti oggettivi o con metodologie condivise delle persone adeguate è di fondamentale importanza. Dobbiamo svegliarci in questo paese. In America lo fanno dall'intervallo fra le due guerre mondiali. In Italia c'è questa enorme resistenza. Facciamo lavorare questi benedetti psicologi. Prima li prepariamo adeguatamente. tenendo presente che un testo, una valutazione, è un pezzetto, è una tessera di un mosaico. Quindi, scusate, lo psicologo non è che ti dà la risposta, no, ti dà un pezzo. Così come il medico ti dice, guarda, dall'esame ematochimici e dosaggio ormonale è venuto fuori questo, ma questo è una ipotese che viene fuori da un'indagine diagnostica. Ok? Nessuno sa che il 24 e poco più per cento delle malattie organiche è a eziologia conosciuta. Cioè che in medicina si conosce la causa di meno di un quarto delle malattie. In medicina. Per un altro 60 e più per cento si conosce qualcosa del processo eziopatogenetico, cioè del modo come viene fuori, di una percentuale X non si conosce assolutamente niente. Per cui la cura è solo palliativa, che è sempre meglio di niente perché se un altro non soffre, ma non va alla causa. Sulle malattie, disturbi del comportamento l'eziologia è sconosciuta. Vi sono 3.000 ipotesi, ma tra ipotesi e tesi c'è una bella differenza. Ok? Che poi parano di serotonina, di adrenalina, di noradrenalina, di pinco pallino, tutto quello che vogliono. Non so se è stato chiaro. Se tu hai un problema e prendi un FANS, un farmaco antinfiammatorio, non steroideo, ti curi la malattia? no, ti curi il processo infiammatorio. Però perché ti sei infiammato? Boh, può essere una causa traumatica, una causa virale, vai sapere. Ok? Così lo stesso, no? È chiaro che la serotonina è coinvolta nei meccanismi del piacere, ma perché si altera? io ho avuto in cura persone con il disturbo, un disturbo neurologico molto diffuso e non del tutto conosciuto come il Parkinson. Il Parkinsonismo è pericoloso. Dici, ma come? tu fai la psicoterapia del Parkinson? Sì, perché il Parkinson viene fuori da un'alterazione di un neuromediatore importante che si chiama dopamina, che viene prodotto a livello delle cellule del RAFE all'interno del cervello, si chiama nucleo negro o substanzia nigra in latino. Si sa dove viene prodotto ma non perché no. Cinque? Dieci? Ok. questo vuol dire che persone che hanno particolari situazioni stressanti, spiacevoli, possono sviluppare questo disturbo. Il tec è un altro. Ma è molto più grave il disturbo di Parkinson. Però ti posso assicurare che l'ultimo sta abbastanza bene. Questo era un bancario di una grossissima banca internazionale è stato all'estero e aveva dei grossissimi incarichi. La banca è stata inglobata in un'altra banca che è una banca italiana e piano 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 le hanno un po' responsabili insomma se andava in giro per il mondo volete immaginare non è che sono tantissime le banche italiane se possiamo fare anche il nome evitiamo il nome. Esterno è stata inglobata da altre banche è stato messo un po' in disparte e lui a un certo punto ha rinunciato alla carriera ha detto ma allora rimandatemi in una filare normale io torno nella mia città ma chi se ne importa? dopo sei mesi che è tornato nella sua città con la sua famiglia che poteva essere anche una scelta sana ha cominciato a 46 anni a sviluppare 46 anni a sviluppare il Parkinson quindi pericolosissimo eccetera eccetera il neurologo che mi conosce me lo manda e mi dice di dare un'occhiata che secondo me vi sono situazioni di mala pessima gestione dello stress e questo aveva una situazione di effetti di questo tipo una famiglia molto agiata che ha perso molti soldi sono rimasti solo immobili la sua carriera è buttata via per l'appunto il supporto riesce a fargli fare delle scelte ora è responsabile dell'ufficio estero per l'appunto ha avuto anche un po' di fortuna nella città dove vive è responsabile di tutte le filiali 40 km a nord e 40 km a sud per cui ha preso importanza guarda caso negli ultimi 4 controlli quindi quasi un anno e mezzo il neurologo dice tutto fermo li sospendo la terapia farmacologica li lascia una pasticchina che è un precursore cioè stimola la produzione endogena della sostanza dice ma allora mi stai dicendo che sei bravo no non ti sto dicendo che sono bravo sono solo un praticone che da tanti anni fa questo mestiere a contatto e lavorando nei policlinici quindi sono a contatto con la malattiera tantissimi anni quindi l'aspetto della gestione dello stress è legato a queste caratteristiche e può provocare a cascata non uno ma due tre cinque problemi fino a gravi malattie fisiche abbiamo parlato anche di cancro il primo giorno stiamo attenti non vi è un rapporto causa effetto vi ho fatto l'esempio della poveretta che gli è morto il papà e la mamma in poco tempo vi ricordate il primo giorno ok va beh quindi torniamo al dunque la possibilità di fare delle indagini è di fondamentale importanza per preparare qualsiasi tipo di intervento dalla diagnosi medica alla diagnosi psicopatologica all'analisi del gruppo perché il gruppo sia in realtà produttivo in Italia chiacchieriamo tanto e non combiniamo quasi niente non abbiamo bisogno secondo me che venga un altro che decida per tutti noi come negli anni passati si fa così perché lo dico io no abbiamo bisogno di essere efficienti e l'efficienza la si fa se il gruppo ha una funzione che viene a monte per esempio stabilita e facendo delle valutazioni siamo un paese veramente incredibile non facciamo valutazioni per le patente di guida siamo l'unici in Europa c'è una valigetta pronta per lo psicologo che deve valutare chi prende la patente dai tempi di reazione altre cose era partita in Italia poi l'hanno cancellata e la patente tanto è tanto il porto d'arme ma andiamo poi a vedere a chiamare l'avvocato a difendere il tizio che ha sparato una valutazione di personalità a rischio e se vedo delle cose psicopatologicamente valide lo mando anche dallo psichiatra la prevenzione se ne parla tanto abbiamo degli strumenti educhiamo gli educatori quelli che fanno comunicazione gli psicologi prepariamole ancora meglio ma utilizziamole in questo caso ci possono dare un indirizzo di nuovo al di fuori di quello che è il giudizio quindi non prende le decisioni per il responsabile della biblioteca o per il presidente di una cooperativa non prende le decisioni fornisce dei dati ma sono dati oggettivi era già stato finanziato uno studio sulla polizia municipale di una città si sono posti sindacati perché dovevano fare dei test e delle prove strumentali questo è il nostro paese non sono stati fatti perché così si fornivano dei dati oggettivi e quindi Giovanni non decideva prodomo chi mettere sulla seggiola lì o sulla seggiola là se continuiamo a decidere così purtroppo non saremo un paese efficiente non produrremo efficacia e secondo me possiamo cominciare però dalle piccole cose mettere in discussione la modalità per esempio di costruire dei gruppi seri di lavoro che producono qualcosa ho cercato di spiegarlo ieri i meccanismi di coping sono di fondamentale importanza ripeto identificare una situazione a rischio in una all'interno di un quadro generale non vuol dire tu hai un alto indice di nevroticismo via no assolutamente ci sono delle persone che si comportano così non mi faccio l'esame del sangue perché poi se mi viene fuori qualcosa ciao grazie a te di aver avuto la pazienza di ascoltare il punto il punto importante è che conoscere cioè appropriarsi delle cose è difficile abbiamo detto l'umana specie il cervello umano è complicatissimo però non facciamo l'errore di superficialità di dire è complicato quindi non lo studio perché non è molto furbo è possibile studiarlo è possibile continuare e bisogna stare attenti appunto a far uscire quello che da una cosa può essere prodotta quindi anche da un'analisi psicologica o psicopatologica può uscire un qualcosa che deve essere visto all'interno di un contesto ma intanto porci il problema è importante gruppi di lavoro gruppi terapeutici gruppi nelle comunità o di altri tipi sono secondo la mia esperienza non produttivi semplicemente perché non sono gruppo sono un insieme di persone oppure per utilizzare il linguaggio di qualcuno tre giorni fa delle isole allora ha ragione siamo tutti delle isole ma a mio avviso non bisogna conglomerarci per diventare qualcosa ad altro bene essere delle isole ma il concetto di isola vuol dire isolato alcune persone stanno abbastanza bene altre stanno male allora bisogna creare dei ponti delle junction dicono gli inglesi delle comunicazioni reali che devono essere bionivoche per funzionare e riprendendo quello che abbiamo detto in questi giorni il ponte o i ponti possono a sua volta funzionare bene se siamo sulla stessa lunghezza d'onda ho parlato con questo esempio di come funziona non ho capito grazie comunque apprezzato no dico soltanto che dicendo queste cose ho semplicemente descritto la trasmissione neuronale un neurone è per conto suo c'è un altro neurone e sono collegati attraverso dei indridi assoni e si mandano dei messaggi loro se sono messaggi contigui adeguati funzionano a rete da qui le reti per esempio informatiche la cibernetica è nata copiando il sistema nervoso umano ora gli studiosi del sistema nervoso attingono dagli studi cibernetici per capire quindi è semplicemente una cosa naturale che si chiede di fare semplicemente difficile e complessa che costa fatica ma vi assicuro che se fatta in questo modo può essere efficace ora ho finito vai se avete domande se avete domande le fate c'è la mia email me le potete anche mandare non vi assicuro vi rispondo a tutti 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 perché arrivano 8000 email e comunque attraverso la ex studentessa di master potete eventualmente ricontattarli ok grazie a tutti per la grossa presenza e soprattutto la la frequenza costante insomma siete stati molto costanti che mi favoreste molto piacere grazie 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 a tutti per essere venuto sin da Parma fino a piccolo paesino di cristianzino grazie 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 siamo veramente molto grazie a regare lo piccolo capitolo della sua esperienza esperienza spero di poter evitare il più possibile vorrei che facciamo una pagina un po' altro grazie grazie a tutti ci vediamo al prossimo modulo che è il 25 26 27 ottobre con la dottoressa Francesca Costinelli e continueremo in te la ispezionare per l'avvento dell'offre grazie grazie grazie